Amici e amiche di Player Inside, siamo qui oggi con l'analisi e reaction del trailer in esclusiva per IGN, da lì che attingeremo, di Lords of the Fallen. Effettivamente mi interessa molto questo soulslike che interessa ed è stata curiosità anche presso tanti di voi. Lo vediamo subito insieme, anche perché su questo canale ormai abbiamo analizzato diversi trailer di vari soulslike in uscita. Molstead è caduta, il suo grande esercito è stato decimato da legioni di Adir, il dio demone. Sostanzialmente c'è ancora però una speranza. La luce dello scuro crociato. Vedete che l'ispirazione ai souls è sempre fortissima. Ma va bene, nel senso ormai si è creato un sottogenere ragazzi, dobbiamo convivere con questa... con questa... cosa. Perché di fatto il sottogenere dei soulslike, che già è un sottogenere, una... sottocategoria degli action RPG, ha creato anche il sottogenere di un certo modo di fare dark fantasy. Direi di attivare anche i sottotitoli. Tanto vediamo se ci sono anche in italiano o no. Quello che ci interessa chiaramente è più il gameplay, perché qui si parla di exclusive extended gameplay trailer. Quindi per quanto riguarda tutta la trama, la lore, questa parte introduttiva, chiaramente ci sarà da capire poco all'inizio, perché... lo faremo nostro poi una volta che avremo il gioco tra le mani. Anche se artisticamente... Sembra... Ecco, abbastanza notevole. Ci siamo. Caspita, caspita. Anche l'incedere del personaggio è chiaramente molto... un po' più dinamico, ma molto ispirato ai souls di From Software. Vabbè, ma basta con questa tiritera. Però devo dire che artisticamente mi regge. Ecco, quindi sono spezzoncini di gameplay, però, eh? Pensavo extended facessero vedere qualcosa di più organico giocato dall'inizio e alla fine. Invece stiamo vedendo vari pezzi di gameplay, vari mob, vari nemici, alcune boss fight, suppongo. Un po' di lore qui e là che per adesso non possiamo cogliere a pieno. Ecco. Wow. In chiave un po' più... rock, se vogliamo. Il che forse toglie solennità un po' a titoli del genere. Che cosa ne pensate? Non che sia un male, eh? Tantissime parate e pochi attacchi. L'ispirazione è fortissima, però, ragazzi, artisticamente mi sembra bello convincente. Adesso lo rivediamo meglio, eh? 13 ottobre 2023 per quanto riguarda la data. Adesso su due piedi, anzi, seduta a stante. Non ricordo se fosse stata già annunciata, ma comunque, per ogni evenienza ce l'abbiamo qui. È stata appunto una IGN World Exclusive. Queste creature mostruose fatte di arti, multipli e facce, pezzi schifosi mi fanno sempre... Hanno sempre un certo fascino su di me. Adesso io lo rivedrei in chiave un po' più d'analisi. Per adesso l'abbiamo visto in blind perché non l'avevo ancora guardato. Quindi questo oscuro crociato, Dark Crusader, definiamolo così per adesso. Adesso io, non avendo giocato il primo Lords of the Fallen, è un titolo che ho colpevolmente esaltato perché era un periodo, il 2014, in cui non avevo ancora giocato neanche i Souls. Quindi ho detto, figuriamoci se mi gioco l'imitazione, no? E poi sono diventato sostanzialmente un Souls Addict dal 2018 in poi. Ho recuperato tutto molto in fretta, vi ricorderete la Raidenzione, anche il The Ring, le Blind Run e tutto il resto, però chiaramente mi è rimasta qualcosa indietro. E tra questi, sicuramente, Lords of the Fallen. Quindi, ormai, piuttosto che procedere al recupero dell'episodio del 2014, io tenderei a questo punto ad aspettare questa sorta di soft reboot, di reboot. È un reboot vero e proprio, anzi. Avete visto che quello, quella sorta di... questo seduto su questo trono, questa sorta di re, di sovrano, insomma, aveva la mano attaccata a una sorta di chiodo. Questo fa capire quanto la solennità del suo gesto debba essere tale, perché smuove questa mano soltanto in condizioni particolari che lo richiedano, perché altrimenti poi deve tornare a conficcarla e quindi immagino che non sia una cosa che faccia così spesso. Da qui tutta una serie di... di trovate nell'ambito dark fantasy. che ormai fa annaggare a chi fa le cose più... particolari, ecco, sotto questo punto di vista, ma mi affascina tantissimo, ragazzi. Non posso farci niente. Ecco, qui vediamo già una serie di combattimenti. Questa, che sembra essere una boss fight con questa sorta di mostro... lingua sci... che praticamente, dalla bocca, gli esce una sorta di arto, di... ramo, di... eh, di... di... di viticcio enorme... sempre organico... qua dei sentori un po' anche alla Scorn, alla Alien, alla Prometheus... o Prometheus, che dir si voglia... affascinante, affascinante, affascinante... va bene... ecco, questa sezione qui, sì... che ricorda tanto... eh... le produzioni From, ma in generale, ormai... sì, anche Lords of the Fallen, l'originale, da quello che... eh... mi è parso di capire, insomma, da quello che ho potuto vedere... il problema degli altri Souls è che non introducono il giocatore adeguatamente. in buona sostanza hanno fatto capire loro che, invece... Lords of the Fallen lo farà... perché ci sarà una parte enorme le prime due-tre ore di tutorial non tutorial... cioè, nel senso, non è che ti spiegano come fare le varie mosse... o magari sì, ma quello brevemente... ma ti fanno prendere confidenza col gioco in modo tale che poi, nel mondo aperto... il giocatore possa trovarsi adeguatamente preparato... che è una cosa che sostengono, appunto, gli sviluppatori di Lords of the Fallen... i vari Souls e Souls-like non fanno. Ed è per questo che poi diventano inaccessibili a tanti, no? E quindi difficili, mentre in realtà... potenzialmente potrebbero non esserlo, come abbiamo dimostrato più volte... farmando adeguatamente, ma il farming non è qualcosa che appartiene a tutti. Poi, per quanto riguarda gli altri mob, gli altri nemici, quelli un po'... così, qualsiasi, disseminati qua e là... non è che lasciano il segno più di tanto... però c'è da dire che neanche quelli di... un Elden Ring... ecco, questo già sì, per esempio, però... i vari soldati, quelli che si incontrano sempre, non è che siano particolari più di tanto... questo è proprio bello... questo mi piace... ha una sorta di ramificazione all'interno... è scheletrico... i suoi capelli che però corrispondono a rami... ha tanti arti... e questa sorta di guscio all'interno del quale lui... è presente poi delle zampe che potrebbero anche essere... tronchi d'albero o una cosa del genere... vista la sua natura... a metà strada tra il... vegetale, l'organi... e l'umano, diciamo... ecco, questa sorta di cerbero cavalcabile... non so quanto sia figo... non so quanto poi sia effettivamente utilizzabile per l'esplorazione dell'open world... oppure può darsi che fosse semplicemente una scena... di un boss domato... o di un nemico domato... però ragazzi... sembra... fortunatamente interessante... nell'ambito dei souls like... sembra rispettare talmente tanto tutti i grismi che sembra copiato... come tra l'altro... Lords of the Fallen del 2014 un po' faceva... cioè nel senso prendeva molta ispirazione... ma lasciava desiderare questo addetta di molti per tanti elementi... anche questo scontro qui con questa... sorta di... re di... perdonate eventualmente la mia impreparazione in materia di Lords of the Fallen... però... io sto volendo giudicare... questo trailer... da non fan di Lords of the Fallen... ma da fan... non proprio della prima ora... dei souls like... tra l'altro si difende... attacca con una sorta di testa statua... una testa di una statua... e poi ha questi attacchi... questo devastante che non sembra essere aggirabile in nessun modo... comunque... 13 ottobre del 2023... per... PC... e... su Steam Epic Games Store... PS5... Xbox Series X ed S... ecco... questo combattimento che abbiamo visto pure prima... eh... mi affascina un casino... è questa delle vibe proprio da... più da Elder Ring che da Souls... cioè... sembra una di quelle bestie che si incontravano... nelle varie grotte e caverne... però possibilmente ancora più ispirata... e a sua volta ispirata appunto alle produzioni From... ma questo è inutile da dire eh... ragazzi... ormai... ormai come dire... è lapalissiano... perché effettivamente sarebbe un po' come dire che è... cioè... è stato istituito un genere... quindi... se vuoi attenerti a quest'ambito e vuoi continuare a piacere a quelli che amano i souls... ragazzi... c'è poco da dire... chi ama i souls... probabilmente amerà copie dei souls... ecco perché Lords of the Fallen... che è più sputato degli altri... Lies of Pea che ha quella caratteristica originale di essere appunto con un Pinocchio ambientato però... con un'ambientazione diversa... molto steampunk... molto gotico... che attira tanto... però poi effettivamente è più Bloodborne... insomma è molto... una produzione... from... tra virgolette... però Coppinocchio... e... e notria... eh... tutti questi souls like... che effettivamente... per piacere al grande pubblico... dice... da un lato dovrebbero essere originali... ma riescono ad essere originali... semmai... soltanto... nelle tematiche trattate... in qualche elemento di gameplay... l'abbiamo visto anche con Mortal Shell... con Time Easy anche se molto meno... quindi... di base... cosa devono fare per avere successo questi souls like? essere dei souls like a tutti gli effetti... possibilmente essere quanto più possibile dei souls... e con questo trailer Lords of the Fallen... dimostra di essere di nuovo... effettivamente... il souls like per antonomasia... perché era tra i primi... usciti nel 2014... a... come dire... scimmiottare per certi versi... ciò che aveva fatto From... con Dark Souls... e con Demon's Souls prima... e sembra volerlo rifare adesso... però in maniera più prepotente... con più carattere... ma non per forza... con così tanto originalità... originalità che... non necessariamente ci è richiesta... perché appunto... se da un lato vogliamo l'originalità... dall'altro... gli amanti dei souls like... lo sappiamo bene... vogliono... la classica e tradizionale... ispirazione ai souls... di From... perché se no... ne è... però poi magari ci si lamenta... che sono troppo ispirati... Signori... fatemi sapere che cosa ne pensate... abbiamo fatto un'analisi approfondita... degli elementi del trailer... un po' diciamo di... il gameplay alla fine... erano delle sequenze... non è che ce l'abbiano fatto vedere... come è stato per il trailer di Lies of Pio... di altri che abbiamo esaminato... in questo canale... ma... quello che abbiamo potuto vedere... mi è piaciuto... mi è piaciuto... molto... e quindi non vedo l'ora... che a questo punto... di poterci mettere le mani su... se ne parlerà appunto... il prossimo autunno... signori... per cosa ne pensate... grazie... e alla prossima... grazie... 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 grazie...